La Maratonina dei Borghi, città di Pordenone, si appresta a diventare una manifestazione a tutto tondo e prenderà il via il 14 ottobre. Questa mattina nella Sala Rossa del Comune di Pordenone sono state presentate alcune iniziative collaterali che daranno lustro a tutti i quartieri toccati dalla manifestazione podistica. L'assessore comunale Bruno Zille. Oggi ci troviamo qua proprio per poter rilanciare quella che è la Maratonina dei Borghi, una classica che viene fatta qua a Pordenone, siamo presenti assieme le associazioni e gli organizzatori. Come amministrazione comunale stiamo dando il nostro contributo soprattutto attraverso l'assessorato al decentramento e soprattutto ai quartieri. Vogliamo che ci sia un'iniziativa che possa coinvolgere tutta la città e soprattutto che siano protagonisti i quartieri proprio appunto recuperando quella che era l'idea iniziale come Maratonina dei Borghi. In questo senso saranno coinvolte anche le associazioni di categoria di commercianti proprio perché in quella giornata ci sia la massima partecipazione, il coinvolgimento dei cittadini, dei quartieri e anche ovviamente delle categorie economiche. Credo che sicuramente sarà un'iniziativa che avrà un suo riflesso importante per la città. Oggi presentiamo la Maratonina dei Borghi di Pordenone, nuova edizione e non cambia la filosofia che è quella di abbracciare i podisti della destra tagliamento e non solo, cambia un po' il modo di intenderla da parte della città. Sarà fatto un lavoro sui quartieri in modo che accolgano in maniera calorosa i corridori e alla fine della gara i corridori sceglieranno attraverso la restituzione del chip che consente la rilevazione dei tempi in quale di questi quartieri si siano trovati un po' più a casa loro. Questa è la base per far vivere alla città la competizione e il lavoro poi che sarà fatto sulle società sportive sarà un altro capitolo con un premio a chi farà tutte e tre le maratonine della provincia di Pordenone da Pordenone appunto a Broniera e a Casarsa.